Musica 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 Bentornati Sono qua in Mario Odyssey In un nuovo video let's play Con i miei nuovi ospiti Super eroi diciamo Che cavolo Loris e Peps Peps Poi vedere lo scettro Questo è lo scettro Raga con questo governerò Il mondo In mushroom kingdom abbiamo trovato una luna Ecco qua siamo Eravamo nel mondo dei dinosauri Si ecco Allora siamo nel mondo dei dinosauri Infatti qua abbiamo un prototipo Di prontosauro Si Abbiamo sbloccato la odyssey con le lune Come potete vedere è bella Ripulita e pimpante Infatti io mi sento completamente Rigenerato Esatto E in questo mondo ci sono altre lune Come quella che ho più aperto Raga qualcuno di voi ha delle patatine che ho fame Ma cosa c'entra? Eh no era per dire qualcosa E vi stavo dicendo nel video prima Ma che C'era Ma che figata sta cosa delle patatine Non è che devi Governerò il mondo Non è che devi dire E mancerò patate tutto il giorno Va bene Ok Qua anche rima figura Comunque Ci sono delle monete delle monete viola Aiuta Prensa Prensa Sono diverse Si qua sono tipo delle specie di ciambelle Qua ne avevo già prese tre Lancia Lancia il cappello Io non sto facendo niente Aspetta qua ci sono dei cappellini con punti derogativi Se lanci il cappello Scusa il cappello qua non funziona il joystick No no sei tu che non sei in grado Ah no adesso funziona Ma che figata Ma non puoi andare dall'altra Vuoi non toccare per favore E' caduto Raga Può capitare anche i migliori Anche i migliori possono sbagliare Anche i migliori sbagliano Per favore Volevo fare una notatina Ecco qua ci sono altre Ci sono altre monetine Vedi che non tutti rimanino a scopo a muocere Che qui c'è un cornice senza dipinto Ecco Perché Qua si potrà attivare questo dipinto E entreremo magicamente in un altro mondo Come se fosse Super Mario 64 Vi ricordate dove entreravate nei dipinti E entreravate nei vari livelli No Ecco guardate questo video Un attimo questo sketch Ecco vi è piaciuto Tutturuttu Ciao a te Ma loris guarda un po' dietro di te Guarda qua Ma ti piace stessa cosa Che è il mondo di Super Mario qua dietro di noi? Ma che bella vita che è questa Ma che figata No ma è troppo figo Comunque questi qua sono venditori di quelle monetine Cioè in cambio di quelle monetine che abbiamo preso Ci possono dare dei vestiti Dei cappelli E pure le mutande Le mutande Pensa che bella vita Sì Mille euro solo Mille e mille monetti Quasi Gucci, Versace Io adesso ho 15 monete del posto Mi posso prendere uno stick da mettere sulla Odyssey La nostra navicella Oppure Dei accessori da mettere dentro la nostra navicella Oppure Dei vestitini particolari di questo posto In questo caso possiamo prendere un capri capo preistorico Capri capo Copri capo esattamente No a me piace più capri capo Capri capo Capri capo Il capri capo suona meglio Un capri capo Questo qua Il potere mio Lo indossiamo ora Ci piace Puoi indossarlo ovvio Il capri capo non si indossa E' quello di tartosso Perché siccome è un livello preistorico Abbiamo capito di tartosso Acquistare con le monete normali Altri oggetti che si trovano dappertutto Io vedo le mutande Ci sono le mutande Ecco ma costano mille monete Noi non ce le possiamo ancora permettere Non abbiamo 10 Non ci possiamo permettere neanche le mutande Peps ma dai La matematica non è un'opinione Pi o meno Per me si Ok adesso cosa facciamo Andiamo avanti in un altro livello E direi di si avanziamo 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 Tra l'altro questo qua è un toddino Ma vuole a Peps La stessa faccia Ciao Peps come stai? In cambio di monete Qua vogliono tutti le monete A me ci pesa Si Vi daranno delle indicazioni per trovare le altre lune Perché è pieno di lune in questi piccoli mondi Copriamo l'indizio? No grazie perché tanto non ce ne facciamo niente No siamo poveri Eh ma non saranno neanche così tanto indicati Cioè sono abbastanza indicativi Adesso siamo a ben otto lune A nove lune Su quanta? Su non lo so Un milione? No un milione no Il gioco infinito lo chiamavano Eh questa è il nostro È la nostra Residence Residence della odyssey Qua c'è il nostro armadietto Dove si possono cambiare i nostri indumenti Però ora abbiamo solo queste cose Quello da marinaio Quello da marinaio Ci piace Mario marinaio Eh perché lei Ah magari probabilmente avrà delle fantasie su dei marinai Non lo so Qua c'è il nostro specchietto Probabile Oggi possiamo specchiare Cosa vuoi fare con lo specchio? Oppure ti puoi narcisare Si può dire Eh ma lanciamo il cappellino sul mappamondo E magicamente ci troveremo in questo Nel mappamondo Nel mappamondo Che figata Il regno del cappello Allora il regno del cappello è quello dove Dove ci siamo trovati nel primo video Qua Quello ci siamo venuti da mirare un'altra volta Era molto timbartiano come diceva la mia collega Mailware Avast o come preferite voi Adesso andremo nel regno del sabbie Tu 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 Ma ti piace come parte? Nio nio Ma ti piace sta cosa? Nio nio Coggi sta cosa Un amica po? Ah Eh si Ah Beh loro in realtà loro hanno 5-5 e 6 anni La vita seria serena Che non li dimostriamo Ah perché non diamo una ripassata veloce un paio di cose mentre leggiamo così ma perché salti tutto ci da delle informazioni o su dei comandi o sul luogo che andremo a visitare ma io preferisco vedere ma noi siamo già non ascoltati regno delle sabbie tosstalandia i legni dei toast ci piacciono però è pieno di ghiaccio come mai ci può inquadrare che mancosa va bene comunque questo cosa ci dice ciao puffo come stai che freddo ghiaccio tutto giro di poco tempo ciao ci vediamo al prossimo città tosto tosto questo è un salvataggio ma perché balbettono tutti quando freddono perché hanno freddo perché c'è ghiaccio nel deserto sono tutti gelati nel freddo nel deserto e queste sono le monetine del posto ma lascia giocare a me per favore ecco grazie ecco io davo una mano in realtà mi facevi confondere c'è un uccellino avvita il piano ah siamo entrati nella linea erettica ah guarda cosa ho visto qua una luna del posto ma che bello ed è verde qua sono verde in ogni livello il colore delle lune cambierà perché il verde è speranza e il verde è il green screen ecco allora ora scendiamo giù e andiamo verso le piramidi di ghiaccio come sai che si chiamano piramidi di ghiaccio? perché sai cos'è? io governerò il mondo no perché abbiamo fatto il video di prova no io governerò il mondo oh guarda che belli questi gumbini io so undicesimo comandamento io so peccato che non possiamo imposteciarci dei gumbini io so ne vorrei una casa di quei piccoli pulcini ma lei già cioè ah qua facciamo una curatata una dai 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 fai 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 adesso saliremo su per questa torre e entriamo dentro noi il bullet bill che sembra una supposta se schiacciamo y acceleriamo che probabilmente è chiamata supposta supposta per gli amici si chiama supposta eh sì è una supposta infocata qua dentro ci dovrebbe essere una luna che però avevo già preso nel video di prova pensavo ah ma voi la sapete è la storia delle supposte qua cosa c'è la sapete o non sapete la storia delle supposte come quando ce l'ha siamo curiosi allora vi spiego subito come era andata ma i bambini possono anche ascoltarla sì certo ok allora bene abbiamo trovato un seme ma che bello ma che figata questo seme dove può andare allora questo seme andrà a far costruire una pianta una pianta lì ci arrivavo anch'io sì una pianta di ghiaccio così continuiamo la storia no non penso proprio che sia di ghiaccio ma perché non di ghiaccio di fagioli eh sono i morti la butto lì dentro no poi ci sono solo i morti eh la vedremo più avanti lasciamo un po' di suspense no nei prossimi video cosa puoi vedere comunque vi piace sta cosa che vuoi rotolare anche così superman mi avete offenduto no dai raccontaci la storia della sua posta adesso tutti i nostri telespettatori youtubeatori youtubeatori ma te non devi giocare scusa po' no non mi lascio allora dici che faccio danno dici donna dici danno ave 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 se lo dite voi adesso questo bulbino diventa un fiorellino che tanto tenerino che gli lanci il cappellino va bene basta con i diminutivi schiacciamo questo perché tutto ino non va bene no ma cosa vai vai il contrario no le monete vanno di qua tu vai di là eh ma perché lui gira ma io no giro nel senso delle monete sbagliato così ciò fa quando perché è troppo facile c'era melma voilà la melma è fondata fanno male cactus ora andiamo in questione 2D si rientriamo nel mondo 2D ci vediamo tra due giorni raga ciao 2D hai rubato la battuta eh no non è vero eh si può solo fare quella guardate queste sembrano i bullet bill sono delle supposte che fanno male al sederino ma sono i 2D queste occhio che mai se ti prendono al sederino fanno tanto malino voilà bullet bill si chiama eh eccola qua guarda qua dove vai eh prendiamo di nuovo la supporta ma dai dai ma cosa fai un po' meglio ragazzi un po' meglio dai ah sono poi due tenete il fatto tu guardi i miei video ah beh ovvio scusa ma quanti ma quanti youtuber ma quanti youtuber mi piace mettete ma quanti news ma quanti ma quanti parlano tanto queste eh ah 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 comunque visto che siamo in 2D ma circolare circolare ma hai vista una cosa così pensavo io pensavo Ma no davvero, è veramente carina questa cosa, a parte gli scherzi, mi piace il 2D circolare, 2D nel 3D Il 2D nel 3D? Ma ti piace questa cosa? Mi piace un sacco, quindi dura una settimana raga Allora, allora, qua c'è qualcosa di nascosto o no? Attenzione ai, le suppostine, adesso le chiamiamo così perché, c'è una moneta, un po' di tranquillità, posso parlare, abbiamo aggiunto la cima, finalmente Abbiamo vinto Mi sento, mi sento un'altra persona Grazie per la visualizzazione di questo video, seguiteci sulla pagina Facebook, anche vi ricordo che ho anche la pagina Facebook che si chiama Koopalink Echo come il mio canale Mettete mi piace, commentate e condividete Chi non ci segue Chi non ci segue Rimarrà bocciato quest'anno No ma da Ci vediamo nel prossimo video Ciao raga Iscriviti, iscriviti ora se non l'hai già fatto Qua, questo lo tagliamo perché ritorniamo indietro Lo taglia quindi No dai, questo lo tagliamo per porta, ci sono i bambini Ha detto che lo tagli Vabbè che a parte che ho messo l'altro pezzo del microfono Sì, infatti Subscribe, subscribe now Ciao!